Il fila brasileiro è una razza canina imponente originaria del Brasile, spesso descritta come molto aggressiva. Ma quanto c'è di vero? Analizziamo il suo controverso temperamento. Selezionato come cane da difesa. Storicamente il fila è stato selezionato come cane da difesa e guardia, con un forte istinto di protezione del territorio e del proprietario. Questo spiega alcuni tratti caratteriali. Potenziale aggressività. Essendo stato selezionato per la difesa, il fila può mostrare aggressività verso estranei se non adeguatamente socializzato. L'addestramento è fondamentale per controllarne gli istinti. Coraggioso e impavido. Il fila possiede coraggio impareggiabile. Si difende e difende il suo proprietario senza timore. Questa qualità è stata enfatizzata nella selezione, rendendolo un eccezionale cane da guardia. Territorialità spiccata. Ha uno spiccato istinto di protezione del suo territorio. Per questo può manifestare diffidenza o aggressività verso persone o animali che si avvicinano alla sua proprietà se non correttamente socializzato. Fedeltà assoluta al proprietario. Nonostante la sua indole da guardiano, con la propria famiglia il fila è incredibilmente dolce e legatissimo. Per il proprietario sarebbe disposto a qualsiasi cosa. Cane impegnativo, non per tutti. Date le sue caratteristiche comportamentali profondamente radicate, il fila non è adatto a proprietari inesperti, richiedendo una rigorosa educazione e costante impegno. Valutazione equilibrata. Non è una razza cattiva di default, ma richiede canali di sfogo adeguati per i suoi istinti protettivi e una ferma guida da parte del proprietario. Non va demonizzato né sottovalutato. Conclusione. In definitiva, con un'attenta selezione degli allevamenti, una corretta educazione e proprietari consapevoli, il fila brasileiro può essere un fantastico cane da compagnia, senza rappresentare un pericolo. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per altri contenuti simili a questo. Resta sintonizzato per il nostro prossimo video.